Ha un fenomeno con cui faremo sempre i conti, l'immigrazione sarà sempre una questione che riguarderà questa parte di Europa, è inutile su questo terreno cercare brevi scorciatoi, è il punto che bisogna insistere ad esempio su un'accoglienza diffusa sviluppata in centri magari più piccoli, in più città, all'interno delle città in centri più piccoli perché ci sia una maggiore corresponsabilizzazione e una minore concentrazione solo in alcuni luoghi. Su questo i comuni dell'Interland forse non stanno dando il contributo che vi aspettavate? Io credo che a livello metropolitano e regionale tante istituzioni, regione Lombardia da una parte, diversi comuni dall'altra, si siano tirati indietro e abbiano lasciato sulle spalle solo di alcuni il peso del lavoro che devono fare tutti. Sul fronte dei rimpatri qual è la sua posizione visto che l'opposizione insiste su questo punto? Io credo che il tema dei rimpatri, la loro efficacia sia assolutamente un pezzo delle politiche dell'accoglienza, cioè i rimpatri assistiti vanno assolutamente fatti perché chi non ha diritto è giusto che non rimanga come invece chi ha diritto deve rimanere con politiche di azione, intervento e accoglienza molto più decise a livello nazionale. Ultima domanda, ad oggi il Comune di Milano fino a quando può reggere ancora questo flusso di arrivi? Siete ormai saturi mi sembra per i posti? Beh sì, diciamo che continuiamo a fare un lavoraccio e continueremo a farlo perché lasciare per strada i profughi significa arrecare un danno a loro e ai milanesi, i milanesi che dicono non accogliamo, secondo me vanno spinti a fare un ragionamento molto semplice, ma se noi non accogliamo, vuoi avere il richiedente asilo, l'immigrato sotto casa, dormire per strada, non credo che sia una soluzione lungimirante.